Farina di grano duro, lievito madre, sale e acqua sono gli ingredienti semplici di un alimento prezioso, il pane. Altamura ha da sempre avuto nel pane il suo elemento di identità. La sua principale caratteristica preservatasi nel tempo doveva essere la durevolezza per più giorni, indispensabile per assicurare il sostentamento di contadini e pastori nelle settimane che trascorrevano lontano da casa, al lavoro nei campi o nei pascoli. Un rito antichissimo quello del pane realizzato in casa e poi cotto nei forni pubblici distinguendo ciascuna forma attraverso un timbro con le iniziali del capofamiglia. Una storia che da millenni si ripete e si rinnova giorno dopo giorno. Oggi il pane di Altamura è il simbolo di una operosità virtuosa capace di fare di questo alimento il fulcro di un sistema economico complesso che guarda al futuro con rinnovato ottimismo a quasi 20 anni dal riconoscimento DOP, denominazione di origine protetta, ottenuto nel lontano 2005, il primo in Europa per questo settore. Altamura ha celebrato dunque la giornata mondiale del pane domenica 16 ottobre con un interessante convegno e una serie di eventi collaterali con l'obiettivo di interrogarsi sulle potenzialità del pane DOP e le opportunità offerte all'intera filiera produttiva dal PNRR. Attraverso proprio il pane di Altamura io penso che il territorio debba cogliere una grande opportunità, quella di valorizzare attraverso questo prodotto distintivo e identitario della nostra cultura alimentare e delle nostre tradizioni un intero territorio e quindi è importante anche affermare che il consorzio di tutela e valorizzazione del pane di Altamura DOP si propone proprio di custodire la tradizione e promuoverla attraverso i suoi molteplici aspetti, ma tutto questo deve essere fatto attraverso una proiezione al futuro, un percorso di crescita e di evoluzione produttiva e imprenditoriale che possa consentire pieno sviluppo e crescita magari anche attraverso i valori, ispirandoci ai valori della sostenibilità e recependo i 17 goals dell'agenda delle Nazioni Unite a 2030 e questo intendiamo farlo per adeguare i nostri processi e la nostra organizzazione ai tempi che si evolvono e cambiano velocemente con un'apertura al mercato, stando in ascolto del mercato e ponendo in essere scelte consapevoli che possono andare nella direzione del pieno soddisfacimento del consumatore finale in primis. Una filiera ricca e complessa quella legata al pane, dalla produzione degli ingredienti naturali alla lavorazione, alla cottura, al confezionamento, al trasporto, alla distribuzione. Una catena del valore che trova negli obiettivi del consorzio di tutela del pane di Altamura DOP uno strumento prezioso per mettere a valore le potenzialità dei singoli, perché stare insieme è meglio che camminare da soli. La forza del consorzio è quella di mettere assieme gli operatori che operano sullo stesso prodotto e nello stesso campo e come sempre quando c'è un'unità di intenti su un intero settore evidentemente le sinergie migliorano e l'efficacia dell'attività di tutti i singoli attori ne viene sviluppata e amplificata. Lasciando che la concorrenza resti un valore? Beh, questo è un po' nello spirito dei consorzi ed è certamente un elemento anche di stimolo tutto sommato. Noi vediamo che all'interno dei consorzi di tutela, anche i più grandi, dove ci sono dei marchi anche estremamente capaci di promuovere il proprio marchio indipendentemente dall'intervento del consorzio, il fatto di avere una casa comune nella quale sviluppare le strategie, i messaggi comunicazionali, comunicazione e devo dire il fatto di mettere assieme le risorse economiche per sviluppare il prodotto ha dato un impulso notevolissimo a tutto il settore. Ottimizzare il processo mantenendo al top la qualità di questo prodotto che fa della freschezza il suo elemento distintivo. Ecco perché occorre pianificare strategie efficaci per consegnare in tempi rapidi su un mercato sempre più vasto. Con un'organizzazione distributiva efficiente, capillare, ovviamente questo presuppone degli investimenti in termini di risorse economiche anche organizzative, ma io ritengo che fare sistema oggi è quanto mai essenziale per poter evolvere e organizzare al meglio efficientando sia i processi produttivi che quelli distributivi. Le produzioni artigianali dunque rappresentano l'infa vitale per la valorizzazione del territorio e della crescita del turismo enogastronomico ed esperenziale. Per questo il pane è molto più di un alimento e chiama ad uno sforzo collettivo perché da questo insieme di acqua, lievito, farina e sale possa continuare ad alimentarsi la vitalità economica di un territorio virtuoso che sa guardare al futuro valorizzando un alimento così antico. Grazie. Grazie.